Sì, sono feticista, vieni mi in bocca. Guarda quella! Lo sai che è l'orgasmo di un maiale più a 30 minuti? E che cazzo, non hanno mai avuto l'orgasmo nella loro vita. Viva gli orgasmi! Viva gli orgasmi! Però non sanno come si chiama. Almeno la maggior parte delle persone... Come mia madre, che non sapeva che cos'è il pompino. Veramente? No, d'accordo. Nicole, se si stacca l'altalena mi viene in faccia. Cosa? Se si stacca l'altalena mi viene in faccia. E' più bello. E' più bello. Cosa? No. Anna, la vuoi sentire di riprendere questa soccolona? C'è altro giusto? Avevo la penna in bocca, sono sempre una penna di cola. Ha speso la webcam, ma lì proprio mi sono messo. Quello l'ha visti così. Venga a essere, vediamo che ci vuoi rimbersa. No, la... Ah! No, la... No. No. Grazie.